salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi andiamo a parlare di un prodotto che sonoff ci ha gentilmente dato la possibilità di testare ed è l'ns panel pro che ha lanciato da poco nella sua nuova versione con un display molto più ampio e adatto in questo caso alle scatole murali 503 quindi abbiamo meno male tutti in casa e possiamo dirvi che cosa che è ovviamente la nuova versione 120 quindi è che si tratta di un device con display full touch ovvero privo di qualsiasi pulsante fisico in grado di gestire la vostra smart home basato ovviamente su ecosistema sonoff e integrare quindi funzionalità non solo di pannello quindi per il controllo ma anche di bridge hub per gestire e anche aggiungere quindi dispositivi per la rete zigbee abbiamo anche tante altre funzionalità multimediali però di queste ne parleremo a breve ma prima di continuare con il video di oggi mi raccomando come ogni volta iscrivetevi al canale attivando anche la relativa campanella delle notifiche ci aiutate tantissimo a crescere impiantate sul nostro sito www.fattalodasolo.it dove trovare tante altre recensioni sui prodotti sonoff l'ns panel pro 120 in questo caso ne andiamo a vedere la versione white quindi doppia busta per questo e quindi un pannello abbiamo detto full touch versione avanzata della precedente ns panel e diciamo variante dell'ns panel pro quello quadrato per intenderci abbiamo tantissime funzionalità abbiamo la possibilità di avere un dispositivo che ci serve per gestire tutti i dispositivi della nostra smart home lo ripetiamo basati sull'ecosistema sonoff dandoci anche la possibilità di gestirli non solo come semplici pulsanti ma addirittura di poter consultare grafici se per esempio abbiamo il nostro powering installato all'interno della nostra smart home e tante altre future che andremo a vedere tra un po anche personalizzazioni entediamo la confezione del sonoff ns panel pro 120 è estremamente curata nel dettaglio si nota subito infatti questa colorazione nera che serve a far risaltare un po il tutto accompagna da proprio dall'immagine del prodotto tolto il primo strato di imballo la scatola vera e propria tutta anche questa in colorazione nera contiene il bundle che è composto oltre dal sonoff ns panel pro 120 ma anche troviamo un manuale di istruzioni due viti per il fessaggio murale e purtroppo nient'altro ma diciamo che già il contenuto che consiste appunto prevalentemente nell'ns panel pro io direi che è tanta roba vediamo un attimino le specifiche tecniche questo device è disponibile come abbiamo visto in colorazione bianca ma anche in colorazione grigia quindi adatto più o meno a tutti gli ambienti abitativi questo device non è un sensore abbiamo detto non è un adattatore ma è un dispositivo che monta un vero e proprio sistema operativo basato su android e possiamo vedere bene questo proprio dalle sue caratteristiche tecniche partiamo prima tutto dal processore che è un arm quad core cortex a 35 da 1,5 gigahertz abbinato a 2 giga di ram di tipo ddr3 e da una memoria e mmc di tipo 5.1 da 8 gigabyte oltre al processore troviamo anche una gpu che è la mali g31 2 e e si occupa della gestione del display tft lcd da 4,7 pollici con una risoluzione di 750 x 1333 pixel e full touch e troviamo bene 16 milioni virgola 7 di colori a livello di connettività il sonoff ns panel pro 120 possiede la classica connessione wifi a 2,4 gigahertz per integrare quindi il dispositivo facilmente con l'app ewe link e per gestire anche la parte cloud inoltre troviamo anche la connessione zigbee 3.0 che lo rende in grado di funzionare come abbiamo detto come un bridge hub per l'omonima rete wireless quindi possiamo utilizzarlo per installare quindi anche come router dispositivi zigbee il sonoff ns panel pro 120 è realizzato prevalentemente in policarbonato bianco in questo caso mentre il display è in vetro temperato a quanto già abbiamo aggiunto dobbiamo semplicemente dire che possiede anche uno speaker c'è un microfono e un sensore di luminosità che serve per esempio a determinare se l'abbiamo postato in automatico alluminosità proprio del display per quanto riguarda l'alimentazione va tra i 100 e 240 volt in corrente alternata e adoperiamo solo due pin che sono presenti sul retro non ci sono altri pin sono il pin l per la fase il pin n per il neutro il collegamento veramente banalissimo basta collegare questi due file rispettivi morsetti ed il gioco è fatto notiamo bene però che non possiede altri pin l'abbiamo già detto in quanto non è integrato con nessun tipo di relay possiamo gestire la caldaia sì ma la caldaia deve avere un suo sistema sonoff come ormai appare chiaro a tutti questo dispositivo è in grado di gestire e controllare tutti i device quindi dell'ecosistema sonoff gestendo da un lato la rete zigbee in locale sia adoperata appunto come gateway e i restanti dispositivi quelli wifi quindi da remoto che sono quindi gestiti dall'integrazione via cloud possiamo quindi gestire i dispositivi wifi o i dispositivi collegati ad altri zigbee app bridge insomma tramite il cloud bypassando quindi il normale controllo tramite app uvilink quindi diciamo che è un dispositivo effettivamente di controllo a 360 gradi ovviamente il sonoff ns panel pro 120 non si limita a questo ma permette di sfruttare anche le funzionalità del display per navigare tramite l'interfaccia grafica è semplice ma anche molto elegante possiamo quindi per esempio consultare ogni singolo sensore otto d'ore presente all'interno della nostra smart home purché faccia parte come abbiamo detto mille volte di questo ecosistema sonoff nel caso dei powering nel nostro caso quindi possiamo anche monitorare i consumi elettrici anche se vi ricordo che io l'ho montato per monitorare la produzione del fotovoltaico possiamo addirittura anche aprire e navigare su pagine web possiamo per esempio avviare delle video chiamate in live dal nostro smartphone e rispondere da questo e tutto questo anche con funzioni per esempio di videocitofono il pannello poi lo possiamo adoperare come centrennati allarme creando automazioni di sicurezza regolare per esempio non ve lo posso prevedere perché non ce li ho la temperatura dei climatizzatori o dei termosifoni tramite le famose valvole e tanto altro ancora possiamo anche personalizzare il dispositivo utilizzando per esempio uno sfondo personalizzato a scegliere un tema che a noi piace fra quelli disponibili possiamo anche cambiare la suoneria del dispositivo e non solo al di là quindi delle customizzazioni l'aspetto però più importante è quello della comunicazione con i dispositivi dato che come abbiamo detto è in grado di utilizzare la rete Zigbee 3.0 adoperandolo come gateway e quindi possiamo sincronizzare i dispositivi Zigbee al Sonoff Panel Pro 120 non manca ovviamente la possibilità di integrarlo con Alexa, Google Home o altri ecosistemi con Alexa lo fa in automatico quindi non vi state a cruciare più di tanto per quanto riguarda la funzionalità di rete Zigbee l'abbiamo detto esso è utilizzabile come router quindi possiamo utilizzarlo anche come dispositivo che serve per far comunicare dispositivi Zigbee più lontani con l'hub principale ma questo diciamo un aspetto più secondario la configurazione iniziale del dispositivo è veramente semplice basta accenderlo, aspettare che il sistema operativo sia caricato dopodiché seguire quella che è la configurazione guidata quindi scegliamo la lingua, la regione di appartenenza quindi il paese Italia nel nostro caso andiamo poi a configurare la rete Wi-Fi e il dispositivo già così è pronto a lavorare per quanto riguarda invece il lato iWiLink apparirà il QR code per la configurazione su app iWiLink basterà scansionarlo tramite app e il dispositivo verrà automaticamente riconosciuto all'interno del dispositivo delle sue impostazioni troviamo più o meno le stesse configurazioni che abbiamo menzionato poco fa quindi quelle riguardanti la customizzazione ma anche la gestione dei dispositivi su rete Zigbee lato Home Assistant il dispositivo viene per così dire integrato nel nostro caso tramite l'applicazione Sonoff LAN ma più che dirci il tempo di attivazione non ci dice è un motivo e il motivo è ben chiaro questo non è un dispositivo come un sensore, un attutore ma tutt'altro tipo di funzionalità è possibile comunque installare su questo device l'app di Home Assistant ma non ve lo faccio vedere in questo video anzi probabilmente non lo farò perché a me piace il dispositivo così com'è e non voglio ovviamente andare a come dire metterci troppo le mani perché comunque ripeto è una scelta personale ma voi siete libri di fare quello che volete infine potete scegliere se posizionarlo all'interno della scatola murale 503 oppure acquistare lo stand appositamente progettato per questo tipo di dispositivi nel mio caso non l'ho fatto ma perché ho la stampante 3D me ne sono voluto realizzare uno io trovando tra i tanti modelli disponibili su Thingverse l'ho stampato come vedete è venuto più o meno bene diciamo però comunque svolge la sua funzionalità e a me diciamo che va bene in questa maniera ma voi se ripeto se preferite acquistare il supporto quello già realizzato ad hoc per questo dispositivo comunque vi lascio sempre il link in descrizione con questo noi concludiamo il video di oggi fatemi sapere cosa ne pensate di questo dispositivo se lo vorreste comprare oppure no o se avete qualche idea in mente su come applicarlo va bene ci vediamo allora un abbraccio ciao ciao grazie a tutti